Oggi siamo in nostro laboratorio per presentare a voi come balanzare una ricetta di pistacchi secondo il nostro metodo, un metodo progetto gelato italiano. Especialmente in questa epoca un po' difficile per tutto il mondo, ci siamo aiutando uno con l'altro e ci siamo aiutati a tutti voi attraverso questa ricetta. E a poco, come sappiamo, facciamo altre cose, perché, ripeto, vogliamo aiutare tutto il mondo e vogliamo che tutto il mondo aumenti il suo livello di connessione. Vogliamo fare una ricetta di pistacchi che sarà pensata per un freezer o quello che ci chiamiamo di pozzetto, no? Quindi la temperatura di servizio sarà di meno dose, più o meno, e, come sempre parliamo nel nostro scorso, non esiste una ricetta per qualche cosa. Ossia, ora verrà che fare una ricetta e come costruire la propria casa. Ossia, che chiedo fare? Chiedo mettere in un pozzetto, a che temperatura, a che struttura chiedo, no? E questa sarà una ricetta che darà la struttura più molligna che dà per collocare insieme ad un sorveggio, no? Dà per fare queste cose, ma mudando alcuni parametri io potrei creare invece una ricetta per una buona, ma scompatta. Nesse caso, no. Chiedo, specialmente, creare questo tipo di reseita che abbia anche la temperatura di servizio e che abbia anche la cremosidà. Ok? CREMOSIDAGI 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 CREMOSIDAGI